Domenica 5 luglio 1942 Mercoledì 8 luglio 1942 Ci fa con cammo tutti Come se dovessimo andare a dormire in una ghiacciaia Beh, per portarci via più roba possibile Nessuno nelle nostre condizioni avrebbe osato uscire di casa con una valigia piena di vestiti Io avevo due camice, tre paia di mutande, un vestito con sopra una gonna, cappotto, sopravvito, due paia di calze, scarpe pesanti, berretto, sciarpa e un sacco di altra roba Soffocavo ancora prima di uscire, ma di questo non se ne preoccupava nessuno Mercoledì riempì la cartella di libri Io non sapevo ancora dove era il luogo misterioso in cui eravamo diretti Alle sette e mezzo chiudemmo la porta di casa Ok, va bene Ricordati di tenere il centro Guarda dove sei gira qui Questo movimento dovete dare un senso, se no è un po' vuoto È un movimento che è il movimento del viaggio in qualche modo Quindi lei lo racconta, siete come lei, cioè imbacuccate Quindi questa è la posizione che ti tiene un po' in rigida perché avete uno strato sopra l'altro di vestiti Quindi siete un po' imbacuccate ed è una sorta di viaggio Viaggio verso questo luogo che non conoscete ancora Viaggio per andare, noi lo raccontiamo così teatralmente Va bene? Però lo dovete avere nella testa Perché se no è un movimento vuoto Va bene? Grazie